Si chiamava Stephen Kelly, era un uomo di 46 anni d'età, che purtroppo, o per fortuna, quello dipende dai punti di vista, non c'è più, è passata miglior vita, è morto. Per quale motivo, per quale ragione non c'è più, vi starete giustamente chiedendo, perché pensate che i figli lo avrebbero fatto fuori per salvare la madre. Infatti, pensate che l'uomo era violento, sarebbe stato violento, Stephen, ripeto, si chiama, e avrebbe cercato addirittura di strangolare la moglie di nome Chandra Nerman. In un momento di impasse, e così i figli, notando la scena in questione, hanno letteralmente salvato la mamma da Stephen, e quest'ultimo è stato ucciso, sarebbe stato fatto fuori per sempre. È passata miglior vita, come si può dire. Una storia incredibile, quella che ci giunge da Rutherford, nel nord della Carolina, ci troviamo negli Stati Uniti d'America, che ha per protagonista quest'uomo che avrebbe cercato di uccidere la moglie, ma è lui stesso ad aver perso la vita per mano dei suoi figli, che lo hanno fatto fuori. Un saluto, si chiamava, ripeto, Stephen Kelly. Grazie, e al prossimo video da Narratore Italiano. Grazie.